In sella la sua bici faceva consegne a domicilio, ma del tutto illecite, cocaina ed eroina. Ma ieri mattina è stato fermato ed arrestato dalla Polizia di Stato. Si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, un cittadino algerino di 55 anni con numerosi precedenti alle spalle. L'uomo è stato infatti fermato dagli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura mentre si spostava in sella la sua bici per le vie di Saione. Con sé aveva 30 dosi di cocaina e eroina, 10 grammi in tutto, già confizionate e pronte per essere cedute ai clienti che lo contattavano via cellulare. Gli agenti hanno poi trovato anche il materiale per tagliare e confezionare lo stupefacente. Per il pusher sono ovviamente scattate le manette. Poco dopo, un'altra pattuglia ha fermato sempre a Saione due cittadini magrebini conoscenti del 55enne arrestato. Dopo un'attenta perquisizione, i poliziotti hanno trovato altra sostanza stupefacente, in questo caso nascosta nel risvolto dei pantaloni di uno dei due. Entrambi sono poi risultati irregolari sul territorio italiano. Sono così scattate le denunce per spaccio e violazione in materia di immigrazione. Ancora dunque un giro di vite della Polizia di Stato contro lo spaccio e un'intensa attività di controllo del territorio, soprattutto nelle zone più calde della città, ma non solo. Domenica sera, infatti, i poliziotti hanno arrestato un altro 55enne con una lunga scia di precedenti alle spalle che, nonostante l'obbligo di permanenza domiciliare, è stato trovato da una pattuglia della Polizia nei pressi di Porta San Lorentino. L'uomo, pregiudicato per furto aggravato, ricettazione, truffa ed altri reati contro il patrimonio, aveva infatti l'obbligo di permanenza domiciliare notturna dalle 20.30 alle 8.30, ma è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione, molto probabilmente è riuscito per andare a comprare della sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti, il 55enne ha anche tentato la fuga, ma è stato bloccato ed arrestato.